Ciao amici di Music Off, bentrovati! Sono Diego Stacchiotti e con molto piacere accolgo l'invito a parlare di vita da musicisti, un argomento che mi sta molto a cuore in quanto da circa 30 anni faccio la professione vivo, con le bacchette in mano e il mio lavoro si svolge da lunedì alla domenica. Il segreto del mio successo, del successo lavorativo, probabilmente si basa su questa parola, diversificazione. Quindi in che cosa consiste il mio lavoro? Lavoro su più piattaforme, insegno, ho una intensa attività come didata, faccio formazione insegnanti, da circa una decina d'anni ho dato vita a un bellissimo progetto, si chiama Teacher Steam, ho con me dei bravi e validi professionisti con i quali condividiamo le nostre esperienze e faccio formazione insegnanti, seguono costantemente i corsi di aggiornamento e portano avanti la mia didattica. Ho anche un'intensa attività come concertista, in questo momento sto suonando a progetti diversi con quattro gruppi e accolgo anche collaborazioni come in qualità di turnista estemporanea. Ultima piattaforma che mi vede coinvolto con molto piacere e gratificazione, lavoro in campo editoriale. Da poco tempo a questa parte ho dato alla luce un libro di self-help dedicato ai batteristi ma a tutti i musicisti che desiderano migliorare la propria situazione, siano hobbisti, professionisti o semplicemente amanti della musica. Il libro si chiama Due Bacchette per successo e mi sta dando moltissime soddisfazioni. In questo momento sto lavorando alla stesura definitiva per le prossime uscite dei miei metodi. Bene, per il momento è tutto, seguiranno altri video nei quali cercherò di passarvi una serie di consigli e suggerimenti per fare in modo che la vostra realtà funzioni al meglio. Vi auguro buona giornata, buono studio e buona musica!